Sono 2.400 di cui 1.600 minori le vittime di un'associazione per delinquere dell'Interland milanese che in un anno ha raccolto oltre 250.000 euro di profitti fraudolenti. La complessa attività di indagine svolta dalla Polizia di Stato ha permesso di risalire all'organizzazione criminale, costituita allo scopo di ricavare i leciti guadagni dalla vendita dei capi di abbigliamento su Instagram. Gli utenti venivano contattati con proposte di beni a prezzi appetibili e persuasi ad altri pagamenti tramite ricariche su carte post e pay con giustificazioni per testuose come spese di dogana o problemi fiscali. L'attività sviluppata dalla Polizia Postale delle Comunicazioni per l'Emilia Armagna di Bologna con l'ausilio dell'omologo Ufficio Milanese e coordinata dalla Procura di Bologna ha permesso di indagare 12 persone per l'associazione per delinquere finalizzata alla truffa e di sottoporne 5 alla misura degli arresti domiciliari con divieto di utilizzo di mezzi telefonici o informatici.